Nei guai quasi 100 persone, per lo più titolari di aziende agricole in Lombardia, Veneto e Piemonte. L'operazione della Guardia di Finanza di Menaggio è stata nominata Montagne d'Euro. Gli imprenditori agricoli, infatti, secondo le accuse, avevano imbastito un sistema per ottenere indebitamente contributi europei destinati alle aree montane. Le persone coinvolte sono state denunciate e nei loro confronti è stato disposto un sequestro preventivo di beni per un importo superiore a 10 milioni di euro. Tutto inizia dalle segnalazioni effettuate da parte di alcuni allevatori locali che denunciavano il fenomeno per il quale alcuni pascoli venivano concesso in affitto dai comuni ad aziende agricole non locali, che pur non portando gli animali in quota, riuscivano a ottenere i benefici previsti dalla normativa europea. Il meccanismo, secondo le fiamme gialle, ruotava attorno a sette persone e due società di servizi che rastrellavano territori montani di proprietà degli enti comunali dell'Alto Lago, di Como e della Bassa Valtellina e offrivano ad aziende agricole un pacchetto documentale completo, utile per poter richiedere all'Unione Europea ingenti contributi.